ragazze buongiorno sono felice c'è freddo ma c'è freddo che meraviglia allora aggiorniamo il calendario oggi che è santo stefano 26 26 novembre tra un mese se dio vuole santo stefano ragazze vi dicevo c'è freddo ma quando mai io sento freddo finalmente era una sensazione che non provavo da tanto guardate che meraviglia il mare azzurro cielo terzo e aria fredda allora ragazze a buongiorno da maia è naturale buongiorno vita mia per ora maia corre si diverte gioca allora ragazze niente sono le 10 e qualcosa le 10 10 io mi sono già alzato fatto colazione ho fatto il mio letto fatto la cucina quindi già ho fatto tante cose ho riordinato anche la cameretta è andando a farmi una doccia shampoo perché così mi voglio fare una breve uscita anche se c'è freddo ma chi se ne frega allora ho scelto queste cose da mettere questa camicia che ho comprato è da paco francisco che praticamente nuova forse ho messo una volta solamente e la metto con questo leggings sempre blu elettrico questo è di calzedonia e così sono bella come dire riparata perché la camicia è pesantuccia sono comoda perché poi metto gli stivaletti e mi faccio una passeggiatina e che cosa vi stavo a di che ve stavo a di allora qua l'ho riordinato e quindi vado a farmi la doccia uso di nuovo il sunsilk il balsamo sunsilk che mi è piaciuto perché almeno per il primo giorno di shampoo i capelli li mantiene veramente morbidi lisci setosi docili al pettine eccetera eccetera poi si naturalmente specialmente chi è che non ha il capello liscio liscio è chiaro che poi un po la natura prende il sopravvento e quindi il capello si come dire si muove un po prende qualche piega allora ragazze che cosa vi volevo dire intanto che ieri ho visto il docu film di lari blasi su netflix se avete netflix ve lo consiglio perché proprio il la ri racconta a chi è che interessa naturalmente il la ri racconta appunto la sua versione del della storia con suo marito con il suo ex marito anzi devo dire che mi è piaciuta mi è piaciuto come lei ha raccontato è ok va bene passiamo ad altro allora niente ragazze quindi mi faccio la doccia e lo shampoo vi preparo vi faccio un get ready with me ragazze a che mi trucco vi faccio un get ready with me anche perché ragazze ho notato che quando ve li faccio di pomeriggio vengono bui quindi è in questo periodo che fa buio presto al pomeriggio ve li devo registrare di mattina perché poi di pomeriggio non mi piacciono vengono proprio bui con la luce del giorno invece è un'altra cosa quindi ve lo registro ora ok allora bando alle ciance e mi vado a sbrigare